Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del covid. A pochi giorni da quel 21 febbraio 2020, quando il coronavirus fece irruzione nella nostra regione con i primi due contagiati ricoverati a schiavonia, l'ospedale riapre il pronto soccorso ai pazienti non covid, una riapertura che ha il sapore della speranza. Con la sua apertura perché significa appunto che la situazione pandemica sta dando appunto il miglioramento importante. Questo grazie sicuramente ai vaccini che sono stati fatti e ricordo anche come precisazione che nell'ultimo periodo in questa ondata tutti gli ospedali hanno collaborato accogliendo comunque persone ammalate di covid e ricordo anche che schiavonia in questo periodo comunque ha potuto mantenere in questo tempo appunto una serie di attività importanti di base non covid che hanno comunque una risposta comunque nei confronti della popolazione. Schiavonia, ospedale di riferimento di tutta la bassa padovana, nelle diverse ondate del virus è sempre stato scelto dalla regione come covid hospital della provincia di Padova. In questa ondata è riuscita a mantenere anche attività non covid come il punto nascite, l'oncologia e la psichiatria. Ora grazie al progressivo svuotamento dei reparti covid e il ritorno di operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni nei tamponi, l'USL6 inizierà anche il recupero delle prestazioni ambulatoriali, oltre 83 mila quelle da fare, dei ricoveri chirurgici quasi 6 mila e oltre 25 mila screening oncologici. Entro l'anno la promessa che verranno tutte smaltite. Intanto nelle prime ore di riapertura del pronto soccorso a Schiavonia sono già stati visitati quasi 90 pazienti non covid. Il calo dei contagi e della pressione nei reparti ha anche permesso di rimodulare i posti letto in terapia intensiva. Abbiamo anche avuto una riduzione di quelli sono i posti che saranno destinati ai pazienti covid, sono praticamente dimezzati. Siamo passati da 16 posti letto destinati ai pazienti covid positivi a 8. Questo ci ha consentito di aprire parte dell'animazione a pazienti che non sono infetti dal covid, quindi destinati alle normali attività della struttura ospedaliere. Oltre al pronto soccorso a Schiavonia ha riaperto per 12 ore al giorno la rete infarti e ictus. E nei reparti di chirurgia aerea medica ci sono 75 posti letto in più per i non covid.